Con queste parole io vorrei solamente esprimere una cosa sola. L'incontro è stato eccellente. È stato eccellente in tutte le sue forme, come presentazione, come organizzazione e come contenuto generale. È stato promosso per le cure palliative in Capoverde, sotto il motto Dignità umana, fino alla fine della vita. Perché l'uomo nasce, cresce e molte volte ha un fine vita triste. Ed è in questo fine vita che noi dobbiamo intervenire. Ho apprezzato molto gli interventi, che sono stati chiari e concili. Ed ho appreso molte cose, tanti elementi che non conoscevo. Oggi invece ho una nozione in più sulle cure palliative. E dico con tutta sincerità che io continuerò ad appoggiare questo progetto iniziato mesi fa in Italia ed anche qui continuerò a dare questo appoggio, che sarà un sostegno incondizionato. E cercherò di coinvolgere altre persone per aiutare questo progetto. Mi è piaciuta molto la forma in cui è stata svolta la tematica. E un grazie anche a Padre Ottavio per questa idea. E alla Dottoressa Graça per l'organizzazione di questo intervento. Grazie per l'organizzazione di questo intervento. Grazie per l'organizzazione di questo intervento. Grazie per l'organizzazione di questo intervento.